Un fiume in piena, così come lo è stata la sua attività in 365 giorni alla guida del Parco dei Nebrodi. Il presidente Giuseppe Antoci ha presentato stamani alla stampa il bilancio del suo primo anno di attività alla guida del parco, proponendo dati e numeri degli obiettivi raggiunti e dei progetti avviati. Ce n'è per tutti i gusti, dall'attivazione dello sportello PAI ai finanziamenti per le aree attrezzate, dalla consistente opera di spending review al protocollo di legalità, dalla fitta rete di rapporti con le istituzioni del territorio, al corpo di vigilanza, fino al fresco accreditamento dell'ente come centro di formazione professionale. Antoci parla del suo primo anno come un anno di promesse mantenute. Obiettivi raggiunti anche in un momento di difficoltà di risorse. Abbiamo veramente lavorato tanto, abbiamo aperto un ufficio importantissimo per il distesto ideologico, qui al Parco dei Nebrodi, l'ufficio del PAI. Questi sono risultati, ma potrei citare tante e tante altre cose. Io sono convinto che oggi il parco viene visto da tutti, dalle amministrazioni, come un momento, voglio dire, attorno al quale si può lavorare, come una possibilità di fare squadra tutti insieme. Nel futuro del parco, l'apertura del percorso dei Grifonia dal Caralifusi, il prossimo 4 novembre, finanziata da Banca Icrea, lo sviluppo dei progetti ancora in progress e la riorganizzazione funzionale della struttura interna. La grande scommessa, però, riguarda l'ampliamento dei confini con l'inserimento dei nuovi 21 comuni. I campanilismi sono finiti. Oggi è il momento della programmazione, quella che stiamo facendo, quella seria. Un presidente del parco che rappresenta questo territorio importante, non può pensare di dire che i nebrodi sono tutti uguali quando serve per entrare alle aree interne e invece non lo sono quando bisogna fare entrare all'interno del parco altri comuni che rappresentano non solo delle eccellenze dal punto di vista naturalistico, ma rappresentano anche un motivo e una possibilità di sviluppo, come per esempio quella di poter accedere ai bandi che prevedono dei bacini di popolazione superiore a 150 mila abitanti. Ritorno a quello che ho detto prima, oggi bisogna fare squadra, lo stanno capendo tutti i sindaci.